Boh, no, nessuno, nulla Conto corrente zero Sul conto corrente non ci sono interessi Carissimi investitori, mettetevi comodi perché questo è l'inizio di un viaggio Un viaggio che parte da Roma e ci porterà a esplorare l'Italia passando per Firenze e Milano Solamente per rispondere ad un'unica, semplice domanda Quanti interessi paga la tua banca? No, perché sembra una cosa stupida ma anche la liquidità che abbiamo non investita, parcheggiata, può generare degli interessi Solo che in molti non lo sanno Ed è proprio per questo che Trade Republic che offre un succoso 4% di interessi sui depositi e sponsorizza questo video Mi ha chiesto di andare nelle principali città italiane per capire se il popolo italiano appunto sfrutta questa possibilità di avere un conto deposito E ottenere dei ritorni sulla propria liquidità Oppure se butta tutti i soldi alle poste o sotto al materasso per poi lamentarsi delle banche e di non avere mai abbastanza soldi Comunque io essendo di Roma ho iniziato proprio qui le mie interviste nella ormai sempre più presente sul mio canale Via del Corso Per un video su Youtube le posso chiedere quanti interessi paga la sua banca? Zero Prevedibile? Boh, non lo so Eh, non lo so Le mie banche? Eh, quanti interessi offre all'anno? Nulla Nulla? Non so, un 3-4% Buono Non lo so Niente No, zero, zero Non lo so Non lo so Anche annuale, sì Tipico Dopo aver fatto queste prime interviste mi sono recato a una pizzeria lì vicino perché quel giorno era il Bitcoin Pizza Day Una ricorrenza che ricorda il 22 maggio del 2010, giorno nel quale un tizio fece il primo pagamento della storia in Bitcoin comprando due pizze per ben 10.000 Bitcoin Quindi ho sfruttato questa cena di cui ero ospite per porre la domanda anche ai cripto investitori Per vedere se fossero un po' più sul pezzo Quanti interessi offre la sua banca? La mia banca attualmente offre il 4% Ce l'ho già a Trade Republic Ce l'ho già Ho paura a aprire che non vorrei che si veda il mio portafoglio da 50 dollari però l'app c'è Siamo sul 4% Non ho soldi in banca, tutti i contanti sotto il materasso Però non rendono nulla questi contanti Lo dici te? Rendono, rendono La mia banca ha il 4% Dopo la cena siamo corsi alla stazione dove abbiamo preso il treno notturno per dirigerci a Milano Per me è stata un'esperienza dato che non avevo mai preso la cabina coi letti in treno Pingiamino messo, ora cerchiamo di dormire il possibile e domani si registra Buonanotte Siamo arrivati alle 7 di mattina e siamo subito andati verso il centro Carissimi investitori, come potete vedere siamo nella caratteristica piazza del Duomo Vediamo se sono un po' più pratici di dove parcheggiare la loro liquidità e vedere se magari prediligono rendimenti maggiori Secondo me i milanesi... Quanti interessi paga la tua banca? Non lo so, non lo so, scusami Non ho la banca Ci spazio, nessuno ha la banca Ah vabbè Ciao Grazie Come fanno a vivere senza banca? Non ho capito Quanti interessi paga la sua banca annualmente? Io lavoro in banca Ah ok Conto corrente niente, sul conto corrente non ci sono interessi Attenzione abbiamo trovato un lavoratore in banca, figata Mi piace Milano, a parte per la pioggia Quanti interessi paga la sua banca? Devo pagare io perché ho il mutuo Va bene, grazie mille A primo mattino onestamente non ne ho la minima idea Al momento nulla Mi sto sorprendendo dei milanesi, pensavo fossero molto più capaci col denaro quindi a far fruttare i loro soldi E invece, attenzione, perché da questo sondaggio, da questa analisi di mercato stanno uscendo fuori cose interessanti Quanti interessi, ma per ora niente Niente, ok Niente Non valutate diciamo opzioni che possano rendere qualcosa, non vi interessa? Per ora no, però sicuramente se ci fosse la possibilità, certo Anche io se ci sono opzioni, possiamo valutare qualcosa Io in questo momento sto sponsorizzando Trade Republic Offrono un 4% su qualsiasi deposito non vincolato Solo accreditando Sì, uno deposita i soldi e vi danno un 4% all'anno Buona saperso Quanti interessi vi offre la vostra banca sui soldi che depositate? Il 4% E praticamente niente Ok Lavoro in banca tra l'altro, però comunque no, non dà niente Non ho depositi in banca per il momento Non usi una carta? Sì, però sai che non lo so Non ne ho la minima idea Non ti interessa, diciamo non... No, per ora non me ne sto occupando Non ne ho idea Ma in realtà non mi occupo molto di queste cose perché mio padre lavora in banca Quindi fa un po' tutto lui Non lo so Zero Ok, vista la situazione direi che è arrivato il momento di parlare di Trade Republic Che sponsorizza questo video Trade Republic è un broker che in sostanza vi permette di investire a bassissime O in alcuni casi addirittura zero commissioni su praticamente qualsiasi cosa Ma che soprattutto proprio in questo periodo sta lanciando la possibilità di aprire un vero e proprio conto deposito Su cui voi potete depositare i vostri soldi, tutto quello che volete E ottenere degli interessi del 4% anno pagati mensilmente Quindi se voi per esempio depositate 10.000 euro su Trade Republic In un anno ottenete il 4% Cioè 400 euro completamente a gratis Che si traduce in 33,3 periodico euro che vi verranno regalati mensilmente Una cena gratis di sushi al mese con dolce incluso Arrivati a questo punto non c'è più nessuna ragione di continuare a prediligere un conto tradizionale Che non solo non vi regala nulla ma vi fa anche spendere soldi in commissioni inutili Link per registrarsi a Trade Republic in descrizione Ma continuando con il video Dopo un breve giretto turistico nella uggiosa Milano Abbiamo preso il secondo treno di questo viaggio per recarci a Firenze Dove il me del passato ha fatto le ultime interviste Grazie me del futuro Carissimi investitori siamo appena arrivati a Firenze Santa Maria del Fiore Io ormai non so minimamente più che cosa aspettarmi Cominciamo con le domande Quanti interessi vi offre la vostra banca quando depositate soldi? Non ne ho proprio idea Non ne ho idea 2-3% Io non ho un conto in banca Non so se dire Nessuno Uguale a lui Conto un rete zero Non ho una banca Avete la carta per pagare? Le poste Ah ok Sono ancora povera Io non ne ho idea Ce l'ho sotto il madrasso Io non deposito niente in banca mi spiace Bella domanda Sai che non lo so Quanti interessi vi offre la vostra banca sui soldi che depositate? Noi si paga Mia loro pagano noi Voi pagate la banca Eh cioè tipo i bolli Ah ok Tu non ti lascia nulla Lascia un bag e ti ammi retta Va bene Questo video stavo sponsorizzando Trade Republic Ah ah Lo conosci Sì sì Cioè tempo fa Lo conoscivo Poi non l'ho più seguito Ah e vedi Loro per esempio adesso hanno aperto proprio la sezione Col conto bancario Ah ok Deposito Sì Offrono il 4% sulla liquidità non investita Quindi proprio non vincolata Ok Cioè fare un pensierino Esatto Grazie l'informazione Esatto Vabbè È molto divertente la cosa perché quando uno dice Guardate che offrono un bel 4% Ah attenzione Niente Praticamente niente Manca a me quasi nulla no quasi zero Non lo so Non lo so Non ne ho idea Non ho una banca Non hai una carta per pagare? No Ok Contante Sì Caro e vecchio contante Giustamente siamo in Italia Usiamo ancora il caro e vecchio E puzzolente E sporco contante Rimaniamo ancorati alle nostre radici Quanti interessi paga la sua banca Sui soldi che deposita? Ah questo non lo so Non me ne curo No ma non ho idea Non lo so Ho pochi soldi Solo il conto corrente per la debito dello stipendio Ok E quello lì ti paga degli interessi ogni anno? No Voglio sempre che culo che io Devi pagare delle spese Sempre Più o meno una sessantina d'euro All'anno E niente carissimi investitori Anche qui a Firenze La situazione è molto simile al resto d'Italia Noi abbiamo provato a fare del nostro Riportare un po' di consapevolezza finanziaria Comunque sia Questa era la situazione Migrancio del futuro A te in studio Grazie mille me del passato E grazie mille a tutti voi Per aver vissuto questo viaggio insieme a noi Mi raccomando Non lasciate i soldi a marcire Fateli fruttare In descrizione c'è il link per registrarvi a Trader Republic Lasciate un like Iscrivetevi al canale E noi ci rivediamo A un prossimo video Ciao Ciao Grazie a tutti.